È bello vedere la spontaneità che ha rilevato Alberto in queste persone, dove veramente si sono messe a nudo e penso che il mettersi a nudo così implichi, perlomeno io do questa interpretazione, è un notevole sforzo nella misura in cui parto sempre ovviamente da un carattere che uno ha, quindi le impressioni man mano si pospongono sugli altri. Il mettersi a nudo non è facile, qui ci sono stati alcuni momenti appunto in cui gli autori si mettono a nudo e è bello senza tante sovrastrutture, senza queste voci come il titolo di questo film. Ecco, Voci d'artista, mi è piaciuta.